5, 4, 3, 2, 1 andiamo, andiamo, destra 4, 30 spila destra 3 spila sinistra diventa tornante destro, tieni bravo, sinistra 2, 100 sinistra 5, per sinistra 5 e 50, stacca forte tornante sinistro 70 destra 3 lunga chiude per destra 3 chiude corta, 100 destra 4, per sinistra 5 per destra 5, per sinistra 5, 150 sì, 150, sinistra 5, 200 bravo, adesso dritto, 200 e il secondo cartello stacca destra 1 chiude per sinistra secca per destra 2 gira in sinistra 2 chiude preparava bene 150 sì, c'è la zebra sinistra 3 chiude 2 stringi in destra 3 lunga, 100 verso 100 e alla chiesa sinistra 3 per destra 3 per destra 4 in spila sinistra 4, 50 accenna destra accenna destra in tornante sinistro occhio interno occhio interno 50 sì, bravo tornante destro 100 sinistra 5 per destra 5 per sinistra 4 meno tieni per destra 5 tieni in sinistra 5 tieni 100 sinistra 5 sinistra 5 attenzione accenna destra subito tornante sinistro bravo destra 5 300 vista stai sinistra per destra 5 subito sinistra 3 per destra 3 diventa tornante destro chiude 50 sinistra 4 lunga per destra 5 per sinistra 5 per destra 4 e al muro sinistra 5 chiude 4 200 sinistra 5 piena e stacca forte accenna destra tornante sinistro bravo bravo cazzo ti giuro destra 5 per sinistra 5 e destra 4 lunga lunga 30 sinistra 4 in destra 3 chiude gira 4 destra 3 chiude gira 150 bravo cazzo bravo cazzo i tolto troppe marge ma va bene Grazie.